I teatri restano chiusi, ma la compagnia del metro popolare continua a dialogare con il pubblico e così, dopo aver dato voce ai bambini delle scuole primarie con il progetto Parole Dentro e i detenuti della Odogaia, ora si rivolge agli adolescenti con il progetto Alza il volume, un vero e proprio laboratorio virtuale dove discutere e creare storie da ascoltare sul tempo presente e quello futuro. Raccoglieremo le loro idee su alcuni temi fondamentali in questo periodo come fragilità, distanza, cambiamento climatico e costruiremo insieme dei podcast che diffonderemo poi attraverso la rete. Secondo noi è fondamentale in questo momento per i ragazzi tirare fuori le loro idee, fare in modo che le loro idee abbiano degli sbocchi, ma è fondamentale secondo noi anche per tutta la comunità ascoltare i ragazzi. Il nostro sforzo in questo momento, in questo anno passato è stato volto proprio a tirare fuori queste parole e a cercare di diffonderle attraverso lo strumento teatrale e non teatrale. Tra febbraio e marzo sarà formata una vera e propria redazione di giovani creatori dai 13 ai 18 anni che sotto la guida di Metro Popolare e secondo la propria propensione parteciperanno alla creazione di una serie di podcast come attori, scrittori, musicisti, editor, poeti. Un laboratorio gratuito che si svolge online grazie al contributo dei fondi del progetto Insieme, messi a disposizione dal Comune di Prato e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.